Vobbe e Koblet sono i grandi rivali di questa 41esima edizione disertata dagli italiani. Anche Kubler è tra i favoriti, ma una foratura gli costerà un ritardo di circa 8 minuti. Partito il tour dall'Olanda, un olandese ha vinto la prima tappa, Backman, prima maglia gialla. Cinque in fuga nella seconda tappa, ma alle spalle del quintetto vigilano gli assi e al momento buono si faranno vivi. Ecco l'involata a Lilla, primo Bobet, secondo Kubler, terzo Koblet e Luison è premiato con un doppio bacio. Quattro in fuga nella terza tappa, Dussault, Meunier, Van Brenen e Van Gnechten. Poi i quattro diventeranno tre ed ecco a Rennes Dussault precedere Meunier e Van Gnechten. Gli assi giungeranno a poco più di un minuto. Doppia competizione nella quarta tappa, ecco la prima cronometro per squadre, netta affermazione degli svizzeri con Koblet, Scherer e Kubler che vediamo riprendere dopo una caduta nella seconda prova in linea, vinta per distacco dal hollandese Van Es. A lui la vittoria di tappa. A Bobet la maglia gialla.